è bellissima ti piace il tuo regalo? si sorpresa? si sei contenta? si prova a metterti nel letto che vediamo se è vero che sembra che ti guarda si vediamo se è vero sei nel letto e eh si, ti guarda si lui ti sembra come di dormire con la moira? però che bella è bellissima e tu che c'hai lì? di fronte, che ti guarda nel tuo letto? eh però non è sul muro e sul cos'è? allora Emma va bene? si, la tratti bene? si stai attenta? si ok